E' un momento emozionante perché è un punto di arrivo generalmente si dice questo ripartiamo da qui eccetera sì certo continueremo ma questo è un traguardo Aver fatto questa bellissima concessionaria di 10.000 metri 5 piani con 300 dipendenti che rappresenta i marchi più prestigiosi nel settore dell'automotive è motivo di soddisfazione Sono molto orgoglioso di essere qui stasera è proprio una bellissima prova del nostro imprenditore Sandro Biasotti di investire nel nostro brand nel futuro anche lui crede nel futuro della Mercedes-Benz noi siamo in crescita già da due anni e secondo me ancora in crescita almeno fino a 2020 allora ci sono delle belle cose ancora come prodotti a vedere nelle prossime anni e già oggi stasera abbiamo la nuova GLC Coupé in questo magnifico stabilimento del gruppo Biasotti è il novelliste della moda 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 è il novellisteoo Grazie.